The usual disclaimer per il video che sto per farvi vedere Ho detto delle cose un po' forti, forti sul Sun Mariner Quindi siete avvisati, siete deboli di cuore E non potete sopportare la verità, mia chiaramente Quando sentite che inizio a parlare di quello, schippate avanti Se no lo sentite e prendetene atto pensando È la sua opinione e non la mia Per il resto video carino, a tratti emozionale Vi piacerà senza dubbio Ciao a tutti Ciao Buonasera a tutti Allora, come promesso Andiamo a fare Il primo di una serie di video che farò Sicuramente lo farò oggi per quanto riguarda Rolex Ho già pronto quello che riguarda Omega E poi ne ho già in mente un terzo Ma che devo ancora mettere nero su bianco Allora In questi video, che sono video discorsivi Ma video fondamentalmente anche, come posso dire Un divertismo Ho due chiacchiere giusto per smuovere un po' le acque Vado a parlare di sogni fondamentalmente Che la vita, se non ci fossero i sogni Sarebbe qualcosa di assolutamente piatto Blando Brutto Mentre invece ogni tanto ci dovrebbero essere anche dei sogni E pensarci a questi sogni Fa comunque sempre bene Ovviamente io feci Uno dei primi video che feci Fu quello che Con un titolo Che adesso non me lo ricordo benissimo Ma era del tipo Perché non comperò mai Rolex Quindi mi ero autodato un embargo Che riguardasse la casa coronata Un po' perché I motivi sono due Il primo motivo è perché Non tengo di nero Ovviamente Il secondo motivo è per la modalità In cui Rolex agisce Che non mi piace molto E di conseguenza Ecco Me l'ha appartito l'embolo Ed avevo detto questa cosa Però Sarei ipocrita Nel dire e nell'affermare Che non ci sono Non esistono modelli Rolex Che Gradirei Avere No? Perché ci sono e come E io ho fatto Mentalmente Questa lista di Cinque Modelli Rolex Che comperei Più Due menzioni d'onore Adesso qua Ne ho segnata solo una Ma ce n'è Un'altra Per cui ci saranno in tutto Otto Poi vi spiego Il perché Otto Orologi Che Appariranno poi Nelle varie Con delle varie Immaginine Ai Ai lati del testone Iniziamo I criteri Sono fondamentalmente Quattro Il primo È che mi deve piacere a me Il secondo È l'estetica Il terzo È Se questo orologio Mi Attiva Delle memorie Dei ricordi E il quarto È per l'uso Che ne andrei a fare Ok Iniziamo Allora Il primo Guardate Tutto scritto qua Il primo È un pari merito Quindi un quinta posizione A pari merito Io ne metto due Il primo È il Milgauss Milgauss Che mi rendo conto Che è Che vi metto qui Che è Un orologio Che attualmente È Anacron Che tra l'altro È uscito di produzione Con le novità di Watch Siamo Wanderers 2023 È uscito di produzione È Un orologio A mio parere Anacronistico Perché Comunque Ci sono oggi Delle orologiche Per esempio Mi vengono in mente Gli Omega Che superano Tranquillamente I 15.000 Gauss Come Protezione Per quanto riguarda Le onde Elettromagnetiche Invece Questo Adesso Non mi ricordo più Il dato esatto Ma è molto piccolo 1.000 2.000 Una cosa simile Quindi è Fondamentalmente Un segnatempo Anacronistico Vecchio Di concezione Vecchio anche Di costruzione Tecnicamente Sicuramente Superato Però mi piace Da matti Mi è sempre Piaciuto da matti Ne vado Matto Ne vado Perché ne vado Matto Secondo voi Per quella Ci sta bene Come Orologio Da tutti i giorni E che posso Scambiare Anche tra Occasioni formali Occasioni non formali Perfetto Tendenzialmente Col quadrante nero Perché mi piace Di più Trovo carina Anche quella Con il quadrante Blu La referenza Qua Molto probabilmente Quella più Diciamo che ho Trovato più Presente Nei vari siti Era 116 400 Ora Sulle referenze Farò sicuramente Dei pasticci Non mi Non mi Linciate Quindi Quinta posizione A pari merito Il Milgauss 116 400 Poi A pari merito C'è Un orologio Che Ancora oggi Mi fa battere Il cuore Perché è L'orologio Che il mio Amore Tennistico Roger Federer Amore Tennistico Degli ultimi 20 anni Perché prima C'è un prima Chiaramente Roger Federer Ha indossato Nella sua Ultima apparizione Ossia Quella del Doppio In Lever Cup In cui C'erano Lui E Nadal Famosissima Quella foto Che poi Vi metterò Qui Con lui E Nadal Che si tengono La mano I due Grandi Rivali Di sempre Un'immagine Sportiva Fantastica Contro Quella bestia Che è TFO Che non sopporto E Jack Sock Ovviamente Loro persero Il doppio Ma non è Quello Quella Fu La partita Una delle Partite più Importanti Dell'anno Scorso Dove King Roger Decise Di appendere La racchetta Al chiodo L'after Matt Fu bellissimo Lui che piangeva La cosa Io ho pianto Come un bambino In quell'occasione Lì Lui Indossava L'Ear King L'ultimo Ear King Ok Quello del 2022 Referenza 126 900 Insomma Averlo Sarebbe Tanta roba Perché Comunque Sarebbe L'orologio Eccolo Qui Che ha segnato Un milestone Ben preciso Sia L'ultima Partita Di King Roger Che magari Non sarà Quello Che ha vinto Più Grande Slam Ma è sicuramente Uno dei migliori Per me Il miglior giocatore Che ci sia stato Sulla faccia Della terra Probabilmente Assieme a Rod Lever Come classe Una classe Innata E poi Perché Comunque Fondamentalmente L'Ear King È un po' Come il Ringo Star Della Rolex È The Ugly One Ma proprio Per questo È quello Secondo me Più effettivo Quello che puoi Più mettere Quello che È più mettibile Quello che È così Forse Brutto E non Rolex Che me lo fa piacere Ancora di più Bellissimo Se lo cagano In pochi Ma per me È tantissima roba Per cui Questo è sicuramente Uno degli Orologi Che andrei A comprare Tra l'altro Non ha neanche Un prezzo Così abnorme No? Quindi potrebbe Essere Papabile Insomma Con qualche sacrificio Mettiamo così Quindi I I primi due fatti Quinto Parimeritro Milgauss E il King Quarto parimeritro Rimaniamo nel tennis In questo caso Quindi Avete già capito Il Wimbledon Questo è l'unico Datejust Che ho messo In questa Classifica La referenza È 126 331 Ed è lui Ed è quello Acciaio e oro Con la lunetta Zigrinata Ed il quadrante Grigio A me piace Damatti Mi piace Alla follia Chiaramente Il nome Wimbledon Anzi Nickname Wimbledon Per me Evoca Ricordi Fantastici Perché io Sono stato Giocatore Negli anni 90 Con forse Un discreto futuro Che non si è poi mai Avverato E per me Wimbledon È sempre stato Il palcoscenico Principe Del tennis Io aspettavo solo Quel momento lì Nell'anno Sì Chiaramente C'erano gli US Open Roland Garros L'Australian Open Ma Wimbledon Era Wimbledon E il Wimbledon Di quegli anni Lo vincevano Solo I grandi campioni Quelli che riuscivano A fare Il Servant Volley Quindi questo modo Di giocare Austero Elegante Ed un po' Soppa le righe Com'è appunto Questo Wimbledon E se io Mi immagino Un futuro Che non c'è stato Sia In cui magari Diventavo famoso Per il tennis Di sicuro Avrei Avuto Questo Questo Orologio E l'avrei Indossato In tutti I country club I tennis club Del mondo Un orologio Che io adoro Alla follia Bellissimo Ok Terzo Il Daydate Che già di per sé Come Modello Adoro Fantastico Questi due modelli Datejust Daydate Sono secondo me La rappresentazione Straordinaria Di Rolex Perché comunque Sono dei modelli Semplici Dei modelli Che hanno Veramente Iconici E che hanno Fatto storia In questo caso Io sto parlando Di un date Di un Daydate Abbastanza Particolare Che è il 228 235 Cioè Quello qui Che è quello In Everose Quindi Questo Oro rosa Con il quadrante Marroncino Cioccolato A losanghe Allora È un orologio Che io amo Alla follia E io Ho un pensiero Fisso No? Parlando di sogni Se io mai diventassi Ricco Sfondato Da poter Avere Una Mia azienda Vitivinicola Nelle langhe Ecco Io dopo Una giornata Di lavoro Fatta da altri Però Non da me Io guardo Torno a casa Mi faccio la doccia Tolgo Il mio casio Per dire Con cui ho lavorato Nei campi Guardato Lavorare gli altri Nei campi E poi mi metto Su quello Mi metto su Questo orologio qua Daydate Everose Vado in cantina Mi piglio Una bottiglia La stap E me la bevo Lì con tutti Questo sarebbe Qualcosa di Straordinario Che mi Che mi fa quasi Venire la pelle d'oca È Un orologio Talmente Too much Talmente Troppo Talmente Veramente Posh All'ennesima potenza Che ha un senso Fantastico Per me Non ha un perché Ha solo un wow È straordinario Fantastico Ok Prima dei due Primi post Prima dei due Diciamo Medaglia d'argento E medaglia d'oro Mettiamola così Due menzioni D'onore Allora Io non sono Un amante Del San Marino Non lo sono mai stato Non mi è mai piaciuto Lo ritengo Uno di quei Segna tempo Qui mi attirerò Le ire di tutti Da macellai Da papponi Non mi è mai piaciuto Veramente Non mi è mai piaciuto Specialmente Le ultime Release Quelle con Le anse grosse No Non mi è mai piaciuto Ritengo Per esempio Che ci siano Dei diver Altrettanto Iconici Molto più belli Per me Per esempio Il Black Pan Fifty Fatum Per dirne uno Però ce n'è uno Di San Mariner Che io adoro E ho sempre adorato Alla follia E che secondo me È il Top Dei top Ed è il 16610 LV Ossia Quello con la lunetta Verde Come ho detto Io Il San Mariner Lo odio All'ennesima potenza Ma questo Con quella lunetta lì Con quel punto Di colore lì È Iconico È Straordinario E Avessi i due soldi Sarebbe l'unico San Mariner Che comperei Mi piace da matti Anche perché Secondo me Con quella lunetta Lì Verde Va a stemperare Un po' Tutta quell'aura Di Ecco C'ho il San Mariner Sono arrivato Sono giunto Giunto De che? Non lo so Ma con quella lunetta Lì verde Secondo me Va a dire Sì Mi sono comprato Il San Mariner Ma mi voglio distinguere Da tutta la feccia Che Lo compra Strong words Yes I know Ma È quello che penso Ok Altra menzione Menzione D'onore D'onore È un orologio nuovo Che è appena stato Presentato A Watches and Wonder Ed è L'Orster Perpetuo Il 1908 Ossia Quello Diciamo così Quello Diciamo così Il dress watch Nuovo Che ha fatto La Rolex Ce ne sono Di Mi sembra Quattro Interazioni Diverse E io lo trovo Un orologio Esagerato La migliore uscita Che ha fatto Rolex In questo Watches and Wonder Al di là del fatto Che è Di una bellezza Veramente senza tempo Poi questa Io già Quando vedo le Coinage Lunette Coinage Non capisco più nulla E quindi Sono poi da subito Per la tangente Ma A me Che ho sempre amato Che amo alla follia Quei tipo di Segnatempo Lì Ossia Dress watch Degli anni 40 50 Ecco Secondo me Rolex Ha fatto un capolavoro Un capolavoro Fantastico Ha un solo difetto Che non hanno Avuto le palle Per farlo Da 37 Millimetri E ancora Le palle Di più Per farlo Da 35 Millimetri È da 39 Quindi fondamentalmente Sul mio polso Starebbe benissimo E soprattutto A me piace Da matti La versione Doro Con il quadrante Nero È una bellezza Che non ha Un senso Alcuno Se l'avessero fatto Da 37 Millimetri O ancora meglio Da 35 Millimetri Sarebbe stato Un qualcosa Di leggendario Purtroppo L'hanno fatto Da 39 Millimetri Mi rendo conto Che Ripeto La Rolex Deve anche Deve soprattutto Piacere A chi Gli orologi Di compra Per davvero Ossia Shake E quant'altro E di conseguenza L'ha fatto Da 39 Millimetri Ma lo trovo Un orologio Di un Un'eleganza Di una bellezza Insostenibili È bellissimo Ok Secondo posto E qua insomma Qui e qua Si fanno Decisamente Più serie Allora Io Non sono uno Che ha tanti idoli Nel senso Che l'idolo L'eroe È una cosa Un po' Così Che mi lascia Sempre abbastanza Perplesso E poi C'è questo detto Inglese Che è Never meet Tioriro Che in effetti Ci può stare Perché normalmente Ci insegna la storia Che molti Eroi Che vengono poi Incontrati Si Risultano essere Persone Sgradevoli In questo caso Io Non potrò Mai Incontrare Questa persona Qua Che Aveva su Questo orologio E che possedeva Questo orologio Che io Definisco Il re Di tutti I Daytona E sto parlando Chiaramente Di Marco Pantani Marco Pantani È stato per me Un eroe Per quello che Rappresentava Per il ciclismo D'accordo Ma anche Perché comunque Nel Lui Quando scalava Le montagne L'ha sempre detto Lui Andava veloce Per Per abbreviare L'agonia Lui Aveva Quando scalava La montagna Quando partiva Negli occhi Questa rabbia Mista tristezza Che mi hanno Sempre mosso Dentro E Quando è morto Io Non lo nego Sono scoppiato A piangere Perché per me È stato come Perdere Un punto fermo Nella mia vita Perché comunque Lui Rappresentava Qualcosa di più Di un ciclista In un'epoca In un'epoca In cui c'erano Gli Indurain Robbinger Zulle Tutti quei personaggi Costruiti A tavolino Lui era Un ragazzo Di Cesenatico Che Aveva iniziato A scalare Il Monte Titano E Tutto quanto L'introterra Romagnolo Ed era Arrivato A vincere Il tour Ed il giro Nello stesso anno E poi è stato Derubato Perché è questo Che è successo E Questa cosa L'ha Privato Di qualsiasi Come posso dire Di qualsiasi Gioia Gli ha tolto La gioia Dal corpo E l'ha portato Poi alla fine Brutta Che ha fatto Nel libro Che ha scritto De Zanne C'è scritto Chiaramente Che lui Indossava Questo orologio qua Ossia Un Daytona 16520 Lo Zenit E Questo Questo sarebbe L'unico Daytona Che io vorrei Comprare Perché Per me Questo è Il Daytona L'orologio Che Ha Avuto Pantani E che ha Comunque Una storia E quindi Per me Non ci sono Altri commenti A me Questo orologio Specialmente Con il dial bianco Mi piace Da matti E mi fa Vivere Emozioni Sempre forti Quando lo vivo Ok Scusate Ma Quando parlo Di Pantani Ho sempre La lacrima Faccio Ok Posizione Numero Uno Questo orologio Orologio Qua È L'unico Rolex Fra tutti Che io Comprerei Che potrei Comprare E che potrei Seriamente Mettere Tutti i Santi Giorni Ed è L'Explorer Due Mi piacciono Molto Quelli A cinque Cifre Per esempio 16570 In quel Caso Mi piace Molto La versione Bianca Completamente Bianca Non Chichi di riso Non Niente Bianca Bianca La trovo Esagerata Fantastica Per quanto Riguarda Invece Quelle nuove La 216 570 Quella nera Quindi quella Con il freccione Perché mi piace Questo orologio Perché Credo Che sia L'unico Rolex Che ha Un senso Dal punto Di vista Dell'indossabilità Di tutti I giorni È un Rolex Da combattimento Che ti starà Sempre vicino Che non ti lascerà Mai Perché È Ragd È netto È brutale È grosso Perché deve essere Grosso E perché deve essere Così E deve essere Anche Robusto E questo è Netto Preciso E soprattutto Secondo me Il Il Rolex Di chi Ha deciso Di comprarlo Perché vuole Averne solo uno E vuole Avere Quell'orologio Lì Per sempre E non perché È un Rolex Perché di fatto Lo è così È Estremo Quasi Ed è L'unico Orologio Della Rolex E questo lo posso dire Sul serio Che mi fa Capitolare Nel senso Che molte volte Ci penso E molte volte Mi dico Cazzarola Io quello lì Se Ci Ci sto Attento Per un paio Tre anni Risparmio Me lo posso Comprare E Sarei quasi sicuro Sicurissimo Che se Comprassi quello Molto probabilmente Poi non Comprerei più Nessun altro Orologio Potrebbe essere Seriamente Per me L'exit Watch Ossia Quello Quello con cui Si conclude La Passione Diciamo No Ma Con cui direi Ok Abbiamo tirato Una linea qua E per Almeno due Tre Quattro Cinque anni Non compro più nulla E mi godo solo questo Tutti i santi giorni Tutti gli atti che vi ho detto No Sarebbero degli orologi Sì magari Milgauss Ecco O anche Lear King Però Se li ho messi per ultimi C'è un perché Perché sono orologi che Ok Mi piacciono Ma non mi attirano Fino al punto Da pensare Veramente A comprarli L'Explorer 2 Sì L'Explorer 2 Mi ricorda Mi fa venire In mente Spedizioni Vite Passate a portare Quell'orologio lì E Ad usarlo Senza paura alcuna Di Rovinarlo O di toccarlo dentro Fantastico Secondo me Lo dico Qui lo dico E qui lo nego Potrebbe essere Veramente L'unico Rolex Che io mi comperei Se ci avessi soldi E che metterei Su Volentieri Tutti i santi giorni Perché lo trovo Veramente Perfetto Per me Boh Direi che ho concluso Insomma Non è un video Neanche lunghissimissimo Adesso Pian pianino Me lo rivedo Faccio la revisione Metto le fotine Eccetera Quello che dovevo dire L'ho detto Sono stato un po' Strong But true Per quanto riguarda Il Sun Mariner Pace E basta Per cui Questo sarà L'unico video Di questa settimana E Bomba Come vi ho già detto Ho già pronto Quello per L'Omega E poi Ho intenzione Di farne Uno ancora Sugli Orologi Che io Veramente Ritengo Iconici Non l'SKX L'SKX Non è un orologio Iconico È un orologetto No L'orologio Veramente iconico Ok Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti